Il gruppo regionale del Movimento 5 Stelle ha presentato questa mattina a Pescara una proposta di legge che ha lo scopo di rilanciare il turismo, agricoltura ed economia dell'Abruzzo, partendo da una materia prima che vale più dell'oro nero, il tartufo. Per il Movimento 5 Stelle si tratta di un comparto importante che coinvolge tra l'altro 6.000 cercatori autorizzati, 36 aziende e 210 quintali di tartufo l'anno. La proposta del Movimento 5 Stelle è quella di istituire nel nostro territorio le città del tartufo per permettere successivamente di dar vita anche alle strade del tartufo. Dobbiamo fare una rete, mettere in rete tutte queste città del tartufo che poi vanno a comporre le strade del tartufo. Ci saranno contributi da parte, previsti contributi da parte della regione che devono essere erogati mediante procedure selettive. Questa legge è stata già depositata in regione Abruzzo circa un mese fa, non è ancora arrivato al vaglio della commissione competente. Ci auguriamo che tutti i consiglieri di centrodestra, centrosinistra, maggioranza attiva di governo, possa accogliere favorevolmente per dare un respiro al territorio e per qualificare e potenziare il vero oro nero d'Abruzzo, perché questa è una delle più grandi ricchezze che ha il nostro territorio e che tante volte viene spacciata con marchi diversi. Io credo che sia arrivato il momento di ridare agli abruzzesi non solo la dignità, ma questo grande oro e questa grande ricchezza. La nostra legge vuole andare in questo senso.